Buon pomeriggio a tutti e bentornati sui nostri canali, canali che continuano a crescere. Su Facebook siamo 1.650.000, anche se ultimamente Facebook sta penalizzando alcuni contenuti stranamente anche regati al tema Palestina ed altro. Su YouTube siamo quasi 210.000 iscritti, io vi ringrazio. Come vedete cerco sempre di fornirvi degli spunti di approfondimento, di riflessione. E qualche settimana fa ho conosciuto, ci siamo conosciuti con il professor Pier Giorgio Di Freddi alla manifestazione Più Liberi, io presentavo un libro su Maradona Politico, che non ho scritto io, però Maradona è stato anche spesso vittima di fake news da parte del mainstream occidentale, ci tenevo a presentarlo, un bel libro, e lì ho conoscuto il professore che mi ha detto che ultimamente era d'accordo con una serie di posizioni che ho preso pubblicamente, mi ha detto che stava lavorando a un libro sui vizi dell'Occidente, su alcune, come dire, ipocrisi occidentali, mi ha mandato qualcosa, io l'ho trovato molto interessante, nelle prossime settimane e mesi verrà pubblicato appunto il prossimo libro del professore Odifreddi, e gli ho chiesto di fare una diretta, perché in questo momento io ci tengo il più possibile, sempre, ma in questo momento particolare, dato che vedo un mondo e una società in particolare, quella europea, davvero in crisi di valori, oltre che dal punto di vista sociale e anche economico, io ci tengo a portare avanti delle battaglie, sono scandalizzato da quel che avviene quotidianamente a Gaza, sono scandalizzato da quel che è avvenuto in questi rivani in Ucraina, ovvero sta avvenendo quello che persone che hanno viaggiato, io professore mi sono fatto due anni fa, un anno e mezzo fa, 13.000 km in treno in Russia, subito dopo l'invasione, per raccogliere un po' di elementi e per comprendere l'altra parte, che non significa giustificare, ma comprendere l'altra parte, e ho compreso l'altra parte, ho capito una serie di questione, ho detto che la Russia non sarebbe caduta minimamente dal punto di vista economico e così è, il paese più grande al mondo, è stato sufficiente dal punto di vista alimentare, energetico, idrico e di produzioni fertilizzanti, bastava andare lì, mentre Repubblica scriveva che mancavano le patatine fritte, ieri ero lì, mangiavo tra l'altro le patatine fritte e mi rendevo conto. E ti volevo dire, professore, che ho letto anche l'introduzione, dove racconti tutta una serie di viaggi che hai fatto, il professore matematico, logico, è un professore appunto, questo è, come dire, il cuore del suo lavoro, è la matematica, eppure non si è mai fermato, si è cercato di informarsi. Vittorini, se non sbaglio, diceva, professore, che la cultura è tutto ciò che non serve, non intendeva che non servisse la cultura, ma un uomo è davvero colto, non se è un matematico e sa tutto di matematica, ma se è un matematico e si informa di geopolitica, viaggia molto, si interessa di letteratura, di politica, di altro. In questo senso la cultura è tutto ciò che non serve al proprio lavoro, in un certo senso. Se non sbaglio è sua questa citazione. Ti volevo dire che io non sapevo che tu avessi viaggiato così tanto in dei momenti, tra l'altro, complicati dal punto di vista storico, le dittature in America Latina, gli interventi della CIA in America Latina, il Centro America. Io ho vissuto quattro anni in America Latina, di cui due in Guatemala, occupandomi di cooperazione internazionale, in una comunità di ex guerriglieri che hanno raggiunto poi, firmarono gli accordi di pace con il governo dopo gli anni della guerra civile. Quindi, come dire, abbiamo ovviamente background decisamente diversi, però ci sono delle cose che ci accomunano, tra cui anche la bellezza del viaggio. E viaggiare crea indipendenza. Ti volevo ancora ringraziare per questa diretta e lasciarti la parola domandandoti quanto vedi, anche oggi, rispetto a tutte le esperienze che hai fatto in passato, il marcio in Occidente. Sì, innanzitutto è un piacere anche per me essere qui. Non è che ci siamo conosciuti qualche settimana fa, ci siamo incontrati. È vero. Naturalmente. Io ti tenevo d'occhio proprio per i tuoi precedenti, diciamo così, pregiudicato da questo punto di vista. Sapevo appunto del tuo, non so se era un servizio civile, diciamo così, in America centrale. E ti avevo seguito quando sei andato in Russia, perché io sono stato per due anni in Unione Sovietica, nell'83-84, quando il mondo era molto diverso e anche e soprattutto la Russia era molto diversa. Ci sono poi tornato tanti anni dopo ed era assolutamente irriconoscibile. Insomma, poi il giorno magari racconterò come era l'Unione Sovietica ai tempi in cui c'era. Però credo che quello che ci accomuna appunto è il fatto che viaggiando si comincia a vedere non soltanto il mondo per quello che è, non per quello che ci raccontano attraverso i media, i telegiornali, i giornali, i film soprattutto, perché non ci dobbiamo dimenticare che in Occidente c'è quello che una volta si sarebbe chiamato il ministero della propaganda, cioè Hollywood, che ovviamente presenta, adesso forse un po' meno naturalmente, perché ci sono anche molti cineasti indipendenti e tante case di produzione indipendenti. Però per decenni Hollywood è stato veramente il ministero della propaganda dell'Occidente. Erano i film di Hollywood che poi acculturavano la gente, anzitutto sulla storia meno recente, su come si sono fondati gli Stati Uniti, perché anche queste sono cose che noi prendiamo per scontate, per assodate. Però gli Stati Uniti non è che ci sono sempre stati, no? In realtà prima degli anglosassoni c'erano ben altri popoli, noi parliamo sempre e soprattutto poi in questi tempi di guerra in Israele dell'Olocausto, che in un certo senso è quasi la giustificazione per qualcuno di ciò che succede appunto a Gaza e in Palestina. Ma ci dimentichiamo che di Olocausti ce ne sono stati di ben peggiori, fatti ovviamente dagli europei, come sempre, i padri fondatori, quelli che vengono chiamati appunto in questa maniera un po' roboante, quelli che sono partiti, pellegrini li chiamano anche, no? The Pilgrims, sono partiti dall'Inghilterra e sono finiti nel Nord America. Non è che hanno trovato il deserto che poi l'hanno colonizzato, hanno trovato delle popolazioni native e le hanno sterminate completamente. C'è un bel libro di Todorov che si chiama La conquista delle Americhe che racconta cosa è successo in un mondo in cui c'erano 400 milioni di persone all'epoca, 100 milioni sono stati sterminati in un secolo, dall'inizio alla fine del Cinquecento, quindi lì non erano ancora nemmeno tanto gli inglesi quanto gli spagnoli e i portoghesi, no? E questi sono i veri olocausti. Qualcuno parla addirittura di olocausto americano, c'è un bellissimo libro della Boringhieri che parla proprio di questo e dettaglia queste cose. E questo non lo dico naturalmente per sminuire l'altro olocausto che in realtà è stata una cosa tremenda, però 6 milioni e 100 milioni, insomma, sono un rapporto di 1 a 15, no? Dovremmo ricordarcelo. L'America è nata in quel modo e come ci sono state raccontate le guerre contro gli indiani? Appunto, da Hollywood gli indiani erano i cattivi, gli americani, i cowboy, erano i buoni, poi sono venute le altre guerre, la seconda guerra mondiale, molti di noi l'hanno imparata, tra virgolette, attraverso appunto i film che abbiamo visto e così via, no? Quindi bisogna stare molto attenti. Quando uno viaggia effettivamente incomincia ad entrare, oddio, ci sono tanti modi di viaggiare, perché adesso il nostro sistema, la civiltà dei consumi, così detta, ci porta, no? A comprare i pacchetti, uno parte da casa sua e dopo, il giorno dopo è in un posto esotico, non sa assolutamente dove, perché poi naturalmente se ci arrivi volando, no? Una volta si andava a piedi, no? Oppure perlomeno in treno, appunto, o in un autobus o semplicemente, no? A cavallo, eccetera, e capivi qual era la geografia. Lì ti buttano in una resort e tu torni dopo 15 giorni o un mese di quel paese, non sai assolutamente nulla, se non che hai sfruttato le sue risorse, no? E se fossi uscito, avessi messo il naso anche soltanto fuori dalla resort, spesso saresti stato traumatizzato. Invece andare a vedere con i propri occhi e soprattutto poi interessarsi di quello che succede. Tu hai parlato del Guatemala, per esempio, o quanti di noi sanno, ad esempio, che gli Stati Uniti in Guatemala negli anni 50, no? Ovviamente hanno fatto colpi di stato come d'altra parte hanno fatto in quasi tutti gli stati del centro e del Sud America, o direttamente o indirettamente per interposta persona, eccetera. E allora quando uno comincia a girare il mondo e a interessarsi di quella che è stata la storia precedente, insomma, capisce che forse la nostra narrazione, che spesso poi tra l'altro non è nemmeno in malafede, è ovvio che c'è un bias cognitivo, noi guardiamo attorno a noi e vediamo quello che ci troviamo intorno. Non capiamo quanto è costato costruire appunto un impero mondiale come quello dell'Occidente in termini economici, ma anche, come accennavo prima, in termini di vita umana. Quindi i viaggi sono fondamentali e servono ad aprire gli occhi, purché siano viaggi, appunto, non turismo, non semplicemente, non fatto per andare a prendere il sole, che va benissimo, anche quello, no? Però non ti insegna quello che è il mondo. Tu cosa hai fatto in quei quattro anni di centrile? Allora, io arrivai in Guatemala, iniziai a studiare la storia del paese, Tiziano Terzani diceva Bisogna conoscere per poter trovare. E fu anche semplice perché appunto, ti dicevo, io con la Caritas Italiana andai a lavorare come insegnante in una scuola, che si trova in una comunità indigena nel nord del Guatemala, il dipartimento si chiama Peten, non lontano da Tical, dove ci sono delle splendide rovine maie, e lì conobbi tutti gli ex guerrilieri che avevano appunto combattuto contro l'esercito governativo sostenuto dagli Stati Uniti d'America negli ultimi anni poi della guerra civile, che come dicevi tu è iniziata perché gli Stati Uniti organizzarono un colpo di Stato utilizzando i militari paramilitari honduregni che entrarono dall'Honduras, un colpo di Stato finanziato da quella che un tempo si chiamava United Fruit Company, attuale Cicchita. Pensate che la Cicchita era fratello del direttore generale della CIA e dato che il governo Arbenz, un governo non di comunisti ma un moderato aveva deciso di distribuire le terre incolte che appartenevano alla Cicchita, ai contadini senza terra, e chiaramente il capitalismo americano non lo ha accettato appunto perché vogliono colpire l'esempio, un po' come io penso al professore io ho scritto un monologo su Assange che lo sto portando in giro per l'Italia e si chiama Assange colpirne uno per educarne cento, l'obiettivo è tenere in carcere il più possibile un giornalista con la Gemma Yuskala per evitare che possano nascere nuovi Julian Assange coraggiosi nel pubblicare determinate notizie. E quindi sono stato due anni lì, girando moltissimo poi il Centro America, tutti i paesi conosco tranne Salvador, poi andai all'epoca lavoravo in una associazione benefica e si occupava di progetti umanitari soprattutto in Congo dove andai a lavorare qualche mese, nell'ex Congo belga, Congo Kinshasa, nello specifico prende a lavorare all'Ubumbashi a confine con lo Zambia, il dipartimento si chiama, la regione si chiama Katanga, il famoso separatismo del Katanga, però mi licenziai e feci un biglietto anni fa di sola andata per l'America Latina e girai due anni in autostop, infatti mi prendono un po' per il culo il mio stream per questo, tutta l'America Latina veramente studiando, leggendo, avendo molto tempo soprattutto per leggere e questo tipo di viaggio mi è rimasto, infatti professore in Russia ho fatto 13 mila chilometri in treno da Belgoro, dal confine con l'Ucraina fino a Vladivostok, passando anche prima per Volgograd, l'ex Stalingrado perché volevo andare un po' a raccogliere quello che, come dire, il professor Barbero definisce la memoria collettiva di un popolo, andare a Stalingrado ti permette di capire molto dei russi e ho girato appunto tutta la Russia in treno dall'Europa all'Asia per rendermi conto di quanto le sanzioni impattassero senz'altro soprattutto nella Russia europea al di qua degli Urali, ma dall'altra parte impattavano molto meno, dall'altra parte l'avvicinamento relativo anche dovuto al distanziamento dall'Europa, all'avvicinamento verso India e Cina, visto come una grande opportunità ovviamente, Lavrov il ministro degli esteri, mentre appunto Repubblica scriveva di patatine fritte mancanti o di soldati russi intenti a combattere con le pale, io andavo a parlare con persone che lavorano nell'industria bellica a Ekaterinburg dove ucciserò i Romanov e mi rendevo conto della totale falsità e mi rendevo conto anche che sì le sanzioni hanno un impatto però questo è un popolo che ha resistito e va avanti e anche una parte di persone che sono giustamente critiche nei confronti di Putin però reputano questa non una guerra Russia-Ucraina ma Russia-Nato in Ucraina, questo più o meno lo percepivano tutti, era giusto dirlo anche perché se qui si scriveva Putin è pronto a dimettersi, ci sarà la defenestrazione e dall'altra parte io vedevo che anche i critici che ci sono, tanti soprattutto i giovani nei confronti di Putin però molti di loro sostenevano quella che appunto in Russia chiamano operazione speciale, guerra, sono informazioni da dare. Ti faccio un altro esempio, anche l'Iran, io poi non sono minimamente un sostenitore del governo della Yatollah, se vivessi in Iran io sarei tra i manifestanti, però io andai in Iran e atterrai due ore dopo l'abbattimento dell'aereo della Ukraine Airlines, fu un errore tragico, tremendo, dei Pasdaran che pensavano appunto che vi fosse un attacco statunitense perché qualche giorno prima Trump aveva dato l'ordine a uccidere il generale Soleimani a Baghdad, venneva ucciso con un drone. Io quindi arrivai in un momento di grande tensione in Iran, ci sono stati due mesi, per capire quel paese che fa parte dell'asse del male. È evidente che ho trovato tantissime persone contrarie al governo, intimorite dal governo. L'ho detto e l'ho raccontato. Allo stesso tempo sostenevo che il modello occidentale non fosse così, come dire, amato in Iran, anche perché l'Iran non è che confida con la Svezia e la Finlandia, confida con l'Afghanistan e l'Iraq. E tanti iraniani si sono resi conto di quel che ha portato l'esportazione della democrazia nei paesi vicini. Io andavo negli ospedali di Gom e vedevo dei cittadini iracheni che entravano in Iran per curarsi perché gli americani hanno distrutto tutto in Iraq, 600.000 morti tra morti dirette e indirette. Oppure ero a Mashhad, dove c'è un importantissimo luogo religioso Mashhad per gli sciiti, che è non lontano dal confine afgano e c'erano afghani sciiti che venivano, con i quali ho parlato. Insomma, ti raccontano delle storie rispetto a quello che gli hanno promesso gli occidentali di libertà e compagnia cantante e guardiamo oggi la realtà. I talebani sono al potere, più forti di prima e più armati di prima perché tra l'altro gli hanno lasciato gli americani e i loro servi europei una serie di armamenti che oggi sono in dotazione dei talebani. E anche dall'Iran, professore, io tornai in Italia via terra. Ero al confine con il Belucistan perché andai a visitare la tomba di Soleimani per rendermi conto dell'affetto da parte della gente che c'era. Quando venne ucciso Soleimani festeggiarono, pensa, i miliziani dell'ISIS perché, piaccio o non piaccio, i Pasdaran hanno combattuto sul campo i miliziani dello Stato Islamico. E appunto dal Belucistan ritornai a Teheran, da Teheran a Tabriz, entrai in Anatolia e feci tutta l'Anatolia in bus, 46 ore dal confine con l'Iran a Istanbul, da Istanbul feci il Bosforo, un po' di Balcani, in Serbia mi si ascrive un po' di reportage per il fatto, andai a Mostar che è una città che amo tantissimo, Sarajevo che è una delle città per me più affascinanti del mondo e occorrerebbe andare oggi per capire anche come l'Islam sta ancora di più rafforzandosi in una terra dove c'è da secoli e da lì poi mi imbarcai da Split fino ad Ancona. Quindi per dire che per me viaggiare, ti lascio la parola, è proprio innanzitutto è quel che mi piace di più di tutti fare al mondo. L'estate scorsa, professore, ho disceso da solo il rio dell'Amazzoni, dalle Ande fino all'Atlantico in due mesi. Lo dico, mi fa dire. A nuoto. Sulle barche sono le navi merci e anche lì comprendi le lotte ambientali, come vivono le persone, per quale motivo in alcuni luoghi giustamente le lotte ambientali vengono viste in un determinato modo. In altri luoghi dove vi è una carenza di sviluppo, buttare giù un pezzo di foresta viene visto in un altro modo, ma è da raccontare, non ripeto per giustificare delle pratiche, perché il mondo va raccontato perché occorre capirlo. Non c'è nulla che mi abbia mai arricchito di più nella mia vita appunto del viaggio, viaggiare in questo modo che appunto non è fare turismo. Io scelsi di uscire dal Parlamento nonostante il movimento fosse in quel momento al 30 per cento perché volevo migliorarmi dal punto di vista, come dire, culturale, di approfondimento e di conoscenza e ho pensato che l'unico modo per migliorarmi fosse viaggiare in questo modo e oggi mi sento molto più ricco e informato. Quando vado in tv, professore, non mi fregano perché credimi, non mi voglio vantare, però studio tanto e quindi arrivo in tv che mi si rendono conto che i miei interlocutori non sono adeguatamente informati, hanno il compitino, ti dicono ah ma stai con Hamas o con la democrazia, ma allora ti piace Putin, queste minchiate e poi quando vai sulla storia, sugli approfondimenti, citi dei fatti, dei numeri, delle questioni che hai studiato, che hai visto sul campo, non ne sanno niente, niente, professore. Io sono stato l'inverno scorso tre volte nei campi profughi palestinesi in Libano, ma se io vivessi lì, professore, avessi i figli lì, ma io non so come mi comporterei perché è la carenza. La cosa interessante è che tu sei troppo giovane per ricordartelo, ma persino Andreotti disse una cosa del genere una volta, disse ma se io fossi nato in Palestina probabilmente sarei un terrorista, cioè noi non ci rendiamo conto appunto che spesso quelle che sono considerate azioni o organizzazioni terroristiche, in realtà sono l'estrema razio, non si può farne a meno. Mandela per esempio da questo punto di vista è stato proprio il classico esempio, quando Mandela fu processato e poi sappiamo tutti che Mandela noi ce lo ricordiamo ovviamente gli ultimi anni, presidente del Sudafrica con quelle sue camicie, che tra l'altro se uno va in Sudafrica costano 1000 euro adesso, le camicie di Mandela, quindi non si possono manco comprare per simularlo o emularlo. Ebbene Mandela però è stato 27 anni in galera, ma quando arrivò il momento del processo, fece il suo famoso discorso che poi passò alla storia, era un discorso ispirato un po' a quello di Castro che aveva fatto qualche anno prima un discorso analogo, la storia mi assolverà, aveva detto Castro. E Mandela ha spiegato di fronte al tribunale che sì certo, lui era considerato un terrorista e loro avevano cominciato a fare delle azioni di resistenza violenta, che però cercavano appunto di far saltare per esempio i tralicci invece di ammazzare direttamente delle persone. Ma l'aveva detto, dice noi siamo stati qui per decenni a chiedere umilmente di fare delle leggi, poi Sudafrica ci ricordiamo come era, era uno stato con l'apartheid, che tra l'altro per inciso è quello che adesso c'è in Israele, in Palestina. Detto così potrebbe sembrare anche un po' un insulto e ovviamente qualche cosa di censurabile, ma il presidente Jimmy Carter, che era un presidente americano, quindi premio Nobel per la pace tra l'altro, insomma più occidentale di questo sarebbe difficile immaginarlo. Eppure lui stesso scrisse, credo forse nel 2006, un libro che si intitolava così, Palestina, pace o apartheid? Perché dice in questo momento in Palestina c'è proprio un regime di apartheid. Sono passati vent'anni naturalmente e la cosa è rimasta lì. Tra l'altro proprio Carter disse all'epoca che se lui fosse stato nei panni di Arafat, non avrebbe firmato naturalmente i supposti accordi con Barack, che tutti presentavano in Occidente come dei generosissimi accordi di pace. E dice perché prima di tutto non glielo avrebbero permesso i palestinesi stessi, si sarebbero ribellati. E d'altra parte, diceva Carter, non sarebbe stato giusto. Quello non era pace, era semplicemente un imporre un regime. E tutti i tentativi, tra l'altro, di pace in Israele e in Palestina, da quando è stata fatta la Palestina, sono sempre andati in questa direzione. Dopo il 67, sono passati quasi 60 anni ormai, 56 o 57, dal 67 in avanti non si parla più di quella che era la vecchia Palestina, cioè l'ONU aveva diviso il territorio in 55% agli israeliani e 45% ai palestinesi. Ma dopo il 67, quel 45% è diventato un 22% e tutti i trattati e tutte le proposte di pace parlano solo di quel 22%, il resto è stato ormai completamente inglobato e anche le proposte che si fanno su quel 22% sono vergognose. Basta guardare le mappe in cui tutti i pozzi di acqua sono stati isolati e assegnati agli israeliani e il resto, cioè le terre non coltivabili o aride, sono lasciate i palestinesi, sono tutte tra l'altro smembrate tra di loro, ci sono dei collegamenti per terra appunto attraverso delle strade ed è una cosa vergognosa, quindi dobbiamo appunto entrare nel vivo della questione. Tra l'altro tu hai citato due esempi che sono quasi da manuale, cioè l'Iran e il Brasile. L'Iran ancora oggi viene presentato da noi come una nazione retrograda in cui uno si immagina di andare lì e di vedere tutte le donne vestite come le nostre suore di una volta, tutte con i vestiti neri, con il velo davanti eccetera, non è affatto così. L'Iran per esempio è un paese in cui i due terzi degli ingegneri sono donne, cioè questo da noi è una cosa incredibile, tra l'altro da noi l'ingegneria non è una delle facoltà STEM cosiddette, ci sono ancora poche donne che fanno ingegneria da noi, là sono i due terzi. L'unica donna che aveva vinto la medaglia Fields per la matematica che è l'analogo del premio Nobel fino a due anni fa era un'iraniana tra l'altro, appunto, non sono all'avanguardia in tantissime cose e tra l'altro come si è arrivati al regime degli Ayatollah, che ovviamente io che sono un ateo dichiarato e noto, certamente non posso essere dalla loro parte, però chi ce l'ha messo gli Ayatollah? Ce l'hanno messo gli Stati Uniti, perché erano l'opposizione esterna, perché come Indy stava a Parigi, era in esilio, l'aveva mandato lo Shah in esilio da tanti anni e l'avevano fomentato semplicemente per togliersi di mezzo lo Shah, che avevano messo l'oro, tra l'altro, sul trono, perché c'era stata la famosa rivoluzione popolare, Mossadegh, che ovviamente poi fu buttato giù, diciamo così, dal potere, da un colpo di Stato della CIA e riportarono lo Shah, che tra l'altro stava a Roma all'epoca, lo preso di peso gli Stati Uniti e lo riportarono lì, e andò bene lo Shah fino a quando? Fino al 1973, quando tu ancora forse non eri nato, e ci fu la crisi petrolifera, perché lo Shah si... ma a parte quello, la guerra con Israele, ma la crisi petrolifera... Esatto, perché lo Shah di Persia si montò la testa e pensò che dopo vent'anni di potere ormai poteva decidere lui quali erano i prezzi del petrolio. In Italia, tra l'altro, e non solo in Italia, nel resto del mondo, ci fu una specie di austerità, si andava in macchina con le targhe alterne, una domenica andavano quelli con le targhe pari, l'uso della matematica, le targhe pari una domenica, le targhe dispari un'altra, eccetera. Allora gli americani decisero di toglierselo dal... di torno e presero l'opposizione, che era un'opposizione appunto guidata dagli Ayatollah, in particolare da Comeini che stava appunto a Parigi. Comeini tornò e poi certo uno si cucina le polpetta avvelenate e poi dopo se le deve mangiare, no? Così, ma quando uno va in Iran, ad esempio a Teheran, probabilmente ci sarai andato anche tu, è interessantissimo andare a vedere quello che era l'ambasciata americana, che viene mantenuta come un museo dell'imperialismo in cui ti fanno vedere, per esempio, le camere in cui si andava a parlare in maniera segreta ed erano tutte schermate, tra l'altro in maniera anche abbastanza rudimentare all'epoca, con la carta stagnola e così via. E ancora oggi c'è un fortissimo sentimento antiamericano in Iran. E in Brasile è la stessa cosa, quando è arrivato Lula, ad esempio, da noi poi in Europa forse è stato considerato come un'apertura, ma ovviamente Lula, soprattutto adesso, tra l'altro, che ha preso delle posizioni abbastanza nette sia nei confronti della guerra in Ucraina che nei confronti della guerra in Israele e in Palestina. E di nuovo gli Stati Uniti hanno messo lì i militari, ci sono stati per anni il governo militare, c'era addirittura il tribunale Russell contro i crimini di guerra. Russell fece negli anni Sessanta le manifestazioni contro la guerra in Vietnam e istitui lui un tribunale privato, che ovviamente non aveva nessun potere, se non quello di raccogliere le testimonianze di coloro che combattevano o che erano combattuti in Vietnam e di farle conoscere al mondo. Russell era un matematico, un filosofo, ma era anche un famoso intellettuale, aveva preso il premio Nobel per la letteratura, quindi poteva esporsi, diciamo così, in primo piano. Ma dopo la guerra in Vietnam il tribunale Russell continuò e c'è un tribunale sui crimini di guerra in Brasile. Brasile che era appunto appoggiato dagli Stati Uniti, così come quasi tutte le dittature militari, l'Argentina, Videla e così via. Quindi quando uno comincia a capire che il resto del mondo è stato messo sotto i tacchi dall'Occidente, allora capisce anche perché poi ci sono a volte degli attentati o dei terroristi che decidono che non se ne può più e che perlomeno vogliono dare fastidio perché poi, diciamoci la verità, che cosa sono anche i grandi atti terroristici, per esempio le Torri Gemelle? Sono morte 3.000 persone, certo, è una cosa pessima, ma che cosa è successo però poi in Afghanistan e in Iraq? Ne sono morte dall'1 a 2 milioni di persone, di cui non si parla quasi mai. Anche in Israele è stata la stessa cosa, sono morte 1.500 persone, certo, ma ormai ne sono già morte 20.000 però come ritorsione. E le cifre non sono mai equilibrate, sono a volte 1 a 10 come facevano i famigerati tedeschi, ma a volte anche di più, a volte sono 1 a 100 il rapporto tra le vittime da una parte e le vittime dall'altra. E allora bisogna anche capire perché c'è questo odio nei confronti dell'Occidente da parte del resto del mondo, ma spesso è un odio giustificato ed è anche in un certo senso, diciamo così, moralmente giusto. Perché se noi pensiamo, non so adesso poi naturalmente il discorso si allarga e potrebbe andare avanti da una parte all'infinito ed espandersi molto, ma noi perché siamo i paesi ricchi, siamo il 10% della popolazione mondiale, l'Occidente, cioè l'Europa, l'America e in parte per esempio il Giappone, l'Australia e cose del genere. 10% che però consumiamo il 90% delle risorse e abbiamo il 90% della ricchezza. Ebbè è certo che se allora il 90% della popolazione mondiale, che sono quasi 8 miliardi a questo punto, deve limitarsi ad avere il 10%, è ovvio che sia seccata e che non ci guardi con un occhio benevole. Però noi sono cinque secoli che facciamo così. Da quando Colombo ha scoperto l'America, da quando abbiamo capito che potevamo andare all'estero, diciamo così, a sfruttare le ricchezze altrui, prima in America, poi in Africa e così via. E oggi noi viviamo di quello, siamo gli eredi di cinque secoli di colonialismo, di imperialismo, che sono parole che poi sono state talmente usate e abusate che oggi fanno quasi sorridere, però la realtà è ancora quella. E la globalizzazione poi tra l'altro non era nient'altro che una forma moderna, diciamo così, di colonialismo e di imperialismo. Era il colonialismo dal volto umano, come lo si potrebbe chiamare con l'espressione che si usava invece per il socialismo, dal volto umano. Quindi bisogna che noi, insomma, in un certo senso ci facciamo un mea culpa, che capiamo quegli altri, che il resto del mondo, quasi tutto il mondo, e che poi a un certo punto dobbiamo essere, a meno che vogliamo soltanto fare delle parole, perché poi allora a questo punto diventano ciance e pasta, dobbiamo essere pronti e preparati a sfogliarci di una grossa fetta di quello che abbiamo per riequilibrare le sorti del pianeta. Se dovessimo essere giusti, il 10% della popolazione dovrebbe consumare il 10% delle risorse. Noi ne consumiamo il 90, vuol dire che dobbiamo circa diminuire 9 volte quello che abbiamo. E proviamo a pensare cosa sarebbe vivere con un decimo circa del nostro stipendio, no? Avendo un decimo dei beni che abbiamo, un decimo di un'automobile, per esempio, no? Oppure un'automobile ogni 10 e così via. Questo vorrebbe dire. E nessuno è disposto a farlo. Quindi molte volte i discorsi etici, anche quelli sul clima, per esempio, che vengono fatti, sono delle belle parole di persone che incominciano a capire che ci sono questi problemi, ma che in realtà lasciano il tempo che trovano. Perché chi di noi poi alla fine è disposto appunto a sfogliarsi di 9 decimi di quello che ha e destinarli appunto ai paesi del terzo mondo per farli crescere, per evitare che la popolazione aumenti, no? Perché questo è il vero poi problema, il grande problema dell'umanità. Cioè siamo troppi, 8 miliardi. Adesso il nostro governo dice che non siamo abbastanza in Europa e quindi in Italia dobbiamo fare più figli, ma è una cosa veramente folle. Anche il Papa purtroppo fa questo errore. Cioè la popolazione deve diminuire, fortunatamente diminuirà in maniera automatica. Le previsioni dicono che siamo, no, queste non sono previsioni, sono fatti. Oggi siamo 8 miliardi, ma alla fine del secolo saremo 7 miliardi se non si prende nessuna misura. Quindi la popolazione sta salendo ma incomincerà a decrescere in maniera naturale. Però se si prendessero delle misure si potrebbe scendere a 6, anche 5 miliardi. E sarebbe una cosa completamente diversa. Certo che se uno dimezza la popolazione e allora le risorse in realtà si raddoppiano per pro capite. E questo però, questo lo vedrete voi in parte i tuoi figli, i tuoi nipoti. Io dico tuoi perché io non ne ho di personali. Però è questo che bisogna fare. Cioè ridistribuire la ricchezza che è quello che chiedono tra l'altro tutti i paesi del mondo, del terzo mondo. Quando Lula va alle Nazioni Unite, quando il Presidente o soprattutto il Ministro degli Esteri indiano vanno alle Nazioni Unite, che cosa chiedono? Chiedono quello. Ci sono miliardi di persone che hanno poco e ci sono alcune centinaia di persone che hanno troppo e dobbiamo ridistribuire le nostre ricchezze, consumare di meno, produrre di meno. Queste sono cose che fanno inorridire i nostri economisti, i nostri politici e anche le nostre persone. Chi di noi accetterebbe volontariamente di abbassare il proprio reddito o i propri consumi. Ma fino a quando non lo si fa, rimangono parole anche le più ben intenzionate, le meglio intenzionate, ma i fatti saranno quelli e soprattutto qualcuno poi si secca. Quindi in parte l'immigrazione è dovuta a quello. Guarda, professore, io ho tanti difetti, però non sono ipocrita. Per cui è un momento che sto lavorando bene, sto facendo belle cose, cerco di mettermi da parte i soldi perché vorrei comprare una famiglia di una casa più grande. Quindi da quando sono diventato papà ragiono anche in un modo diverso. Certo, lo credo bene. Prima non mi capitava. Però non c'è... Tutte le esperienze più belle e significative della mia vita non le ho fatte spendendo molti soldi, alcune le ho fatte addirittura senza spendere niente. Sì, nel senso che a me quello che tu dicevi appunto rinunciare a qualcosa per la... innanzitutto per un discorso di giustizia sociale non è qualcosa che mi ha mai spaventato particolarmente. Forse vivo veramente una vita normalissima. Adesso sto lavorando bene, grazie a Dio, però ho sempre vissuto una vita più che dignitosa, ma normale. Grazie, grazie a Dio. Grazie a Dio, assolutamente. Però quindi condividevo. L'unica cosa, io sono d'accordissimo, siamo troppi nel mondo, non siamo più troppi in Italia. Leggevo ieri delle statistiche ed è comunque preoccupante quello che sta avvenendo, nel senso che non si devono fare troppi figli, soprattutto in determinati luoghi, dove però si fanno figli perché il figlio diventa una ricchezza, soprattutto in delle zone rurali, penso al Guatemala, nelle comunità indigene. Più figli si hanno e più c'è possibilità di fare ricchezza. Cioè questo è il modo di ragionare di tante e tante persone. Però ci sono dei luoghi, pensa alla Liguria, che credo sia la regione, professore, vicino tra l'altro dove abiti tu, credo più anziana al mondo, e vedere così tanti anziani, così pochi giovani è anche deprimente. Però ascoltandoti, a parte mi viene in mente mille cose. Poi questa diretta, il titolo è guerra e democrazia, perché la guerra c'è e la democrazia no. Questa è la mia sensazione. Io quando ho fatto il parlamentare, professore, avevo delle idee, le portavo avanti, ma veramente vedevo delle pressioni, soprattutto nei confronti del governo. All'epoca io ho fatto il parlamentare soltanto d'opposizione, quindi non ho vissuto l'esperienza governativa, quindi non saprei dire nulla. Alcuni miei colleghi mi hanno raccontato di pressioni crescenti. Però ecco, le ho viste. Io vedevo, ora si sta approvando la legge finanziaria, professore, vedevo con i miei occhi i lobbisti, nell'anticamera della Commissione Bilancio, quando si approvava nella Camera dei Deputati la legge finanziaria, la legge più importante appunto di una Repubblica, fare delle pressioni, ma di ogni tipo, certo mica minacce con la pistola, però io dico sempre che la corruzione di oggi non sono più le bustarelle, soprattutto a certi livelli, figuriamoci, per accottare si prendono le mazzette, ma è il sistema lobbistico, la promessa di un posto, la crescita, una consulenza futura, magari ad un parente. Per questo io dico sempre che, questa è la mia esperienza, che è soltanto una legge difficile. Un incarico europeo nel Golfo. Evidente, evidente. È tutto lecito, professore, ma è evidente. Che il mio ex collega, e veramente eravamo inseparabili, abbia svenduto determinati ideali, fuori di dubbio. Ma guarda, io ne ho sofferto in un periodo, facciamo questa chiacchiera, nel senso che sentivo un forte tradimento. Adesso non me ne frega più niente, perché sono fiero delle scelte che ho fatto io, professore, perché avrei potuto anche io svendere determinati ideali molto facilmente. Anzi, ero quello più irriverente, Sturmundrang. Mi bastavano tre, quattro interviste apparecchiate, professore, e diciamo che la bella casa già ce l'avrei avuta. Però veramente non mi interessa. Sto facendo quello che amo fare. Ho la possibilità di stare molto con i miei figli, di viaggiare, di studiare tutto il giorno. Non me ne frega niente. E penso che la credibilità... In parte sono addirittura dei meccanismi che sono quasi automatici. Per fare un esempio, con le dovute proporzioni naturalmente, se uno guarda però Cuba, quando ci fu la rivoluzione cubana contro Battista, in un certo senso Castro e Che Guevara erano un po' i modelli vostri. Cioè tu un po' il Che Guevara che appunto dopo se ne va, che prima gira, e lui in motocicletta era più avanzato di te, tu con l'autostop, che però si gira appunto il Sud America, impara direttamente quello che sono i bisogni della popolazione, poi arriva Cuba, che però non era casa sua in un certo senso, e poi se ne va. Dopo tre, quattro anni dice bene, io me ne vado a fare in Africa prima, in Bolivia dopo, e poi ovviamente gli ando male. E dall'altra parte però, quando Castro prende il potere, il potere è qualche cosa, molti dicono che corrompe, questo è sicuramente vero, ma ci sono dei meccanismi dentro il potere, cioè spesso uno deve farle certe cose, e quando uno è fuori non si accorge e dice ah, quando arriverò io cambierò e farò diverso, e poi in realtà quando arrivi fai esattamente quello che bisogna fare. La Meloni per esempio è un altro esempio di questo, che è arrivata lì con tutti i suoi slogan contro l'Europa, e adesso poi ci accorgiamo che invece è perfettamente in quadratto. In parte c'è l'aspetto personale, uno vuole fare carriera, poi se vuole mantenere il potere deve fare quello, ma in parte c'è anche proprio un meccanismo interno, cioè ci sono cose che, ci sono leggi, diciamo così, della politica, che ti spingono e ti costringono a fare certe cose, perché a meno che uno esca dai mercati o che esca dalla Nato per esempio o dai trattati che ha firmato in precedenza, eccetera. L'esempio più classico è quello dell'Unione Sovietica, quando arrivò la rivoluzione nel 17, che misero Trotsky a fare il ministro degli esteri, e lui disse, ah, io non frego, adesso il ministero degli esteri tra qualche settimana lo chiudiamo, io firmo la pace con la Germania, senza condizioni, e poi chiudiamo il ministero degli esteri e basta. E i tedeschi gli dicono, ah bene, grazie, sono entrati in Russia, e poi si è capito che, sì sì, puoi anche fare quelle cose lì, ma se vuoi mantenere il tuo Stato devi fare la guerra secondo le regole della guerra. Infatti ci fu la guerra civile, i bianchi contro i rossi, i morti che continuarono, è molto illusorio, o meglio, è ingenuo dal di fuori dire vado lì e cambio tutte le cose. Sarebbe come dire quando Di Maio lo disse, no? Abbiamo eliminato la povertà con un decreto. Eh, bravi, però purtroppo non è con i decreti che si eliminano le cose, no? Io infatti l'ho preso in giro all'epoca perché lui, te lo ricordi, lo disse dal balcone di Palazzo Chigi, no? E io dicevo, ma sarebbe come se uno dicesse, ho abolito la legge di gravità e salto dal balcone. Sì sì, tu l'hai abolita per decreto, però ti sfracelli sotto, no? E questo è il brutto, il lato brutto, diciamo così, del potere. Allora, professore, ci sono certe cose che devi fare perché... Sicuramente non soltanto Luigi, anche io ero più giovane ed esperto, ho detto magari delle cose delle quali, come dire, che non andavano dette in un determinato modo, quindi non soltanto lui. Però, amor di verità, quel reddito di cittadinanza è servito, tanto è che ora lo stanno smantellando con risultati catastrofici. Però sì, sono d'accordo con te. Però per tornare al tema, perché molte persone mi accusano da fuori, è facile parlare. A parte il fatto, perdonate, ma io sono pure stato dentro e proprio per non accettare determinate cose sono uscito. Quindi comunque anche questo c'è, non è che... Io ho avuto determinate possibilità, ma questo è un altro discorso. Però io non pretendo... Tu parlavi della Meloni, chissà quali scelte rivoluzionarie. Orban, tra l'altro, storico alleato della Meloni, che io per mille cose non apprezzo. L'Ungheria fa parte della Nato, fa parte dell'Unione Europea, è un premier, credo che faccia parte del suo partito, credo, non sono sicuro, dei popolari nel Parlamento Europeo. Eppure è riuscito a dire una cosa che tutti noi italiani vorremmo, no altri 50 miliardi buttati per allungare la guerra. È la verità, professore, che non pensano più che l'Ucraina e Zelensky possano vincere. Già stanno pensando al dopo Zelensky, ma non a Mosca, nelle cancelliere europee. Questa è la realtà. Però gli serve prendere tempo, dare una boccata d'aria, tanto mica i soldi sono loro e neanche gli uomini ucraini e le donne che muoiono al fronte sono figli loro, per arrivare alle elezioni europee o le elezioni presidenziali americane senza la resa dell'Ucraina, senza Putin che arriva a Mariupol e, non lo so, e festeggia la vittoria dell'Ucraina e della Russia. Cioè, questo gli interessa. È veramente questo che a me dà il ribrezzo dell'Occidente, dell'etica e della morale occidentale. Ora, io dico, la Meloni non è che deve annunciare l'uscita dalla NATO, l'uscita dai trattati e adesso facciamo la bomba atomica italiana per sovranità militare. No, basterebbe accodarsi a Orban. Se la Meloni avesse detto le stesse identiche cose che ha detto quando è stata sbertucciata dai due giornalisti comici russi in quella telefonata e sono spacciati per il politico africano. Ma sarebbe, veramente ci sarebbe stata una nuova, ci sarebbe già oggi una nuova via e per me le possibilità di un negoziato sarebbero molto più vicine. Il tema qual è? Che Zelensky il negoziato non lo può oggi, non lo vuole, perché se si dovesse fare un negoziato vero Zelensky va fuori, perché gli hanno costretto a firmare il trattato che proibisce all'Ucraina di trattare con la Russia fino a che al cranino ci sarà Putin e molto probabilmente Putin ci sarà pure per i prossimi anni. Questo è il tema, quindi io non pretendo chissà quale scelta rivoluzionare, ma un minimo di testa sulle spalle, un minimo di orgoglio, di interesse nazionale. Noi ce l'abbiamo avuti degli uomini politici, perché Mattei era un uomo politico, anche per questo è stato assassinato, che hanno provato a lavorare per l'interesse generale, ma Andreotti, Berlinguer, uomini della Prima Repubblica che erano infinitamente più sovrani dal punto di vista politico intellettuale di questa marmaglia che c'è oggi e che appena Biden si mette sull'attento, apre bocca, questi si mettono sull'attento. Cioè questa è una roba indecente per me. Venne ricevuto Arafat che all'epoca veniva considerato terrorista da autorità italiane. Venne a Bottego Scure a visitare il feretro di Berlinguer ed era considerata allora un terrorista, è l'organizzazione di liberazione della Palestina, è un'organizzazione terrorista. Eppure l'Italia era questo. Oggi il dibattito è se ti scandalizzi per quasi 9.000 bambini sventrati, fatti a pezzi a Gaza, migliaia e migliaia di innocenti, mutilati, bambini che aspettano da settimane un'operazione e vengono operati senza anestesia. È l'inferno, è l'apocalisse. In televisione ti dicono allora stai con la massa e non stai con la democrazia. Poi quale democrazia? È una democrazia che come dicevi tu pratica apartheid. E il tema però, democrazia e informazione, è legatissimo. Prima tu citavi Lula. Io non dimenticherò mai, il giorno che Lula ha sconfitto Bolsonaro, siccome Salvini ti fava Bolsonaro, Enrico Letta esce fuori, era segretario del PD e disse vince la democrazia, complimenti a Lula, finalmente l'ambiente e compagna cantante, a salire sul carro di Lula del vincitore. Lula che ha usato, è finito nell'oblio perché ha usato paragonare Putin a Zelensky, sostenendo che l'Occidente e l'Ucraina avessero delle responsabilità. cose verissime, verissime, perché nel 2014 l'Ucraina è successo di tutto e per me quello è stato un colpo di Stato, dato finanziato dagli americani. E poi ultimamente addirittura ha definito quello che sta accadendo a cazzo un genocidio. E da quel momento ho silenziato. Cioè il tuo caro amico... Anche Greta! Anche Greta! Anche Greta! Ne abbiamo parlato ieri al telefono. Greta, un mito assoluto per il gruppo Gedi, che sono appunto gli editori della Repubblica, la stampa, ha usato manifestare pro-Gazza dicendo I stand with Gaza e che è finita nella lista dei filomas. Cioè è veramente una roba patetica. Ma anche il tuo amico Papa Bergoglio, dicevo, quando parla di determinate cose, magari sulle quali pure siamo d'accordo, subito finisce nelle prime pagine, e quando parla di quello che stanno facendo gli israeliani al gazzo, quando ha detto c'è anche la responsabilità di questo abbagliare della Nato, di sequestro alle porte della Russia, viene trattato come... o viene silenziato, cioè proprio oscurato, censurato di fatto. Cioè il sistema liberal capitalista, per utilizzare un'altra espressione, o il mainstream liberal capitalista è un'espressione desueta e un po' sputtanata, è questa roba qua. è incredibile. Passi dal mito, dall'eroe a un problema da mettere da parte in un secondo perché osi disalleniarti dal pensiero dominante. Ma stessa roba succede già a Zelensky. Zelensky era un eroe, professore, un eroe. Prima pagina del time, invitato in tutte le manifestazioni canore cinematografiche, oggi non trovi una dichiarazione di Zelensky neanche in dodicesima pagina. Eppure è sempre il presidente dell'Ucraina, ha sempre lo stesso maglioncino verde e sta difendendo il suo popolo. Per me lo sta mandando al massacro su ordine britannico-americano in una guerra che ci è stata descritta come scontro di civiltà, professore, come la guerra in Afghanistan, come la guerra in Iraq, come la guerra in Libia, come il bene contro il male, Israele contro Hamas. Dio è con noi, ha detto Netanyahu. Dio è con noi. Pensate a che livello di fanatismo arriviamo. Dio è con noi, quindi il loro Dio vuole sterminare 9.000 bambini palestinesi. Però, come ben sai, di guerre fatte e portate avanti in nome di Dio, ce ne sono state tante nella nostra storia. Il punto è che è difficile costruire democrazia senza un'informazione. Anche per questo, io con questi canali che oggi sono molto seguiti, tento un po'. E sai, professore, ti lascio la parola. Io proprio me ne infischio delle strumentalizzazioni degli attacchi. Io so che le cose che ci siamo detti oggi possono essere prese, tagliuzzate, ogni frase e diventiamo filoterroristi, giustificazionisti, filo agli atollà, ecco gli piace l'Iran. Antisemiti. Antisemiti, anche perché l'uso strumentale dell'antisemitismo è una vergogna, una vergogna, come anche l'uso strumentale dell'olocausto. Ma questo lo denunciano dei parenti delle vittime dell'olocausto, che sono indignati, dicono qua vogliono giustificare i massacri nel nome dell'olocausto, nel nome della lotta all'antisemitismo. Vabbè, dobbiamo andare avanti, questo è un compito, quantomeno chi ha la possibilità di fare un po' di comunicazione, informazione, ha il dovere di fare. E niente, lascio a te la parola. Ma no, perché ci sono tante cose che si potrebbero dire. Una in particolare che mi sembra interessante, tu citavi appunto il fatto che paragonare Putin e Zelensky può fare scandalo. Ma si può fare scandalo anche di più, e soprattutto la cosa interessante è che lo fece ad esempio Harry Kissinger. Uno pensava, essendo quello che è stato ovviamente, consigliere, segretario di Stato di Nixon, sarebbe esattamente dall'altra parte. Ma Kissinger che in realtà era uno studioso di politica, tra l'altro molto interessante leggere sempre e starla sentire nelle interviste che sono ormai registrate, perché sa sempre queste cose estremamente complesse, queste analisi complesse. Ma lui lo disse chiaramente qualche anno fa, era prima della guerra in Ucraina, ma era già dopo il colpo di Stato del Maidan, credo forse il 2016-2017. Quindi se noi sbagliamo in Occidente a paragonare Putin a Hitler, perché dice in realtà non sono quelle le sue tradizioni ovviamente di Putin, Putin non ha letto il Mein Kampf e disse Putin ha letto Dostoevsky. Ora da noi Dostoevsky è considerato ovviamente il grande scrittore, l'esistenzialista, amatissimo dai preti e dai non credenti. Ma se uno legge Dostoevsky si accorge che la visione di Putin è esattamente quella, è la visione dei russi di 150, di 200 anni fa. Dostoevsky, che ebbe tra l'altro una vita avventurosa più della tua e sicuramente più della mia, perché a un certo punto finì in galera, il suo fratello era terrorista, perché poi sono sempre quelli, uno che era contro lo zar e quindi lo accusarono, il fratello, di aver fatto un attentato alle zar e presero però anche lo scrittore Fiodor Dostoevsky. Li misero in galera, li processarono, li condannarono a morte e fecero una finta esecuzione. Cioè Dostoevsky fu legato al palo, ci fu un rullo dei tamburi, il cappuccio, gli lessero la sentenza e disse puntate e poi dice, scherzavamo, la pena è stata cambiata, commutata in il carcere a vita. Oddio, non è che fosse tanto meglio. E lui ebbe tra l'altro la sua prima crisi di epilessia, perché da quel momento in poi incominciò ad avere queste reazioni nella vita e comunque rimase dieci anni in nei campi di concentramento, il gulag, quello che poi Sol Genizzi chiamò il gulag. E dopo dieci anni però alla fine fu graziato e fece il primo viaggio in Europa. Uno esce dal gulag e dopo dieci anni in cui è vissuto con le prostitute, con gli assassini che poi mise nei suoi romanzi come protagonisti, e che fece bene in Europa e girò l'Inghilterra, la Francia, l'Italia, eccetera. Poi tornò con le mani nei capelli, dopo essere stato il gulag, e disse ma sono stati in Europa, ma è una cosa schifosa. Ma questi qui che non pensano ad altro che a consumare... Notate, era 1866, cioè due secoli fa, stava cominciando la rivoluzione industriale, c'era la prima Expo a Londra, oggi le Expo sono diventate delle macchine da soldi, c'è stata anche in Italia, a Milano, qualche anno fa. Quella era la prima che si fece, che si costruì il Crystal Palace a Londra, di cui oggi rimane solo il nome, perché poi fu prima spostato e poi abbattuto. E lui fece questa analisi della civiltà occidentale, in qualche modo, di quella che oggi chiameremmo la civiltà dei consumi, tra l'altro con uno simoro, perché le due cose vanno male insieme, e disse che questo popolo, gli occidentali in altre parole, ormai senza più nervo, l'unica cosa che pensano è consumare, divertirsi, ubriacarsi il sabato sera. Lui parlava della Movida, siamo nel 1866, oggi si suiciderebbe, credo, se venisse da noi. E quindi noi non ci rendiamo conto che visti dal di fuori possiamo sembrare veramente un popolo di debocciati, che oltre a consumare, a sprecare, a distruggere l'ambiente, eccetera, anche da un punto di vista morale, sociale, non abbiamo, diciamo così, il nervo. E i russi ci guardano dall'altra parte, i russi hanno perso 20 milioni di persone durante la Seconda Guerra Mondiale, no? E l'abbiamo vinta anche grazie a loro, anche se Benigni non lo sapeva, e quindi fece entrare appunto gli americani, no? A Berlino e ad Auschwitz, no? Così, non era così, ma dobbiamo essere giudicati, e forse sarebbe bene che facessimo anche noi un po' di esame di coscienza, anche da questo punto di vista etico, morale, cioè il nostro modo di vivere, a parte tutto il resto, lo sfruttamento, il razzismo, il colonialismo, l'imperialismo, eccetera, eccetera, ma visto proprio dal di dentro, è veramente un modo, è quello che tu accennavi prima, no? Quando dicevi si può vivere felicemente anche senza dover essere dei consumatori seriali, no? E invece noi non lo capiamo, adesso sta arrivando il Natale, si vede la frenesia sotto i portici nelle città, dico a portici perché a Torino abbiamo i portici, ma nelle città, nelle strade, e così via, comprare, pensati alla perversione del mercato occidentale, cioè una delle perversioni, ma quella che a me fa più specie, l'obsolescenza programmata. Quando eravamo bambini noi ci dicevano questa maglia di lana ti durerà tutta la vita, ma oggi l'idea è che ti deve durare una settimana perché se ti dura tutta la vita siamo pregati noi che facciamo le maglie, e allora costruiamo le cose in macchinari, eccetera, in modo che si rompano, no? Le lampadine elettriche, Mugica faceva questo esempio, dice le lampadine potrebbero durare centomila ore, no? Ma noi le facciamo in modo che durino mille ore perché altrimenti così noi vendiamo cento volte di più, no? Cioè allora è una perversione questa, cioè produrre le cose in modo che si rompano perché così le possiamo comprare, le macchine, è una cosa veramente, cioè dovremmo fare veramente non solo un esame di coscienza, ma una piristroica, come la chiamava Gorbaciov, ma una ricostituzione, no? Un ripensamento dei nostri valori, di quello che vogliamo essere. Tra l'altro noi ormai siamo arrivati a uno sviluppo economico talmente forte che potremmo vivere tranquillamente tutti lavorando poco, consumando molto, no? Ma non in queste maniere ossessive ed esagerate come facciamo adesso, no? E vivendo bene, senza problemi. Eppure non lo vogliamo fare perché siamo chiusi in questo circolo vizioso, no? Praticamente. Sulla ruota del cricchiero, proprio. Sì, sì, esatto. Io lavoro perché così poi guadagno, poi così compro cose che me ne frego di avere, no? E' incredibile, no? Quindi è questo il vero vizio dell'Occidente in un certo senso, di essere riusciti a sviluppare una tecnologia, una scienza, no? Che ti potrebbe permettere effettivamente di vivere bene, di lavorare poco, quindi di dedicare molto tempo al tempo libero, appunto, no? Alla conoscenza, ai viaggi, o anche soltanto a cazzeggiare, no? Che sarebbe un'ottima cosa, no? Gli animali ce lo insegnano, che stanno lì a cazzeggiare, noi gatti e cani tutto il giorno, no? E noi siamo sempre lì, che dobbiamo lavorare, no? E così. Poi tra l'altro il problema del lavorare è che molti lavorano come dei matti, ma perché ovviamente questo è il sistema e che però altri invece non lavorano. Cioè la disoccupazione che per teoria economica non può arrivare a zero perché non sarebbe ovviamente economica dal punto di vista della struttura della produzione. E quindi ci devono essere quelli che non hanno il lavoro perché gli altri lavorano di più, veramente da pazzi. E allora forse quelli che che ci disprezzano da una parte o ci criticano. E quelli che poi magari ci combattono anche molto più concretamente, no? Sia con le armi che con l'economia, perché ormai il BRICS ad esempio, che si sta allargando a macchia d'olio, no? Però il BRICS anzitutto è la maggioranza della popolazione mondiale, perché quando c'è dentro la Cina, la Russia, il Brasile, ovviamente quello è già la maggioranza della popolazione. Ormai stanno entrando i paesi arabi, l'Arabia Saudita che sta cominciando a salutare gli Stati Uniti e a pensare di non far più pagare il petrolio con i dollari. E anche questo è l'imperialismo, Bretton Woods, cioè decidere che tutte le transazioni mondiali si fanno con la moneta degli americani. Eh, grazie. Adesso si comincia a cambiare e credo che sarà molto interessante per i più giovani, diciamo che vive, come dicevano i cinesi, no? Che ha i loro nemici, che tu possa vivere in tempi interessanti, no? E i tempi futuri secondo me saranno interessanti e probabilmente dovremmo accettare il fatto che ormai l'Occidente non ha più il predominio sul mondo intero, perché molti stati si sono adeguati, la Cina ormai è diventata una potenza in grado di combattere ad armi pari con gli Stati Uniti, la Russia un po' meno, ma anche l'India che è un paese straordinario ma molto complesso ovviamente, lì sì che ci sono le grandi differenze, no? A Bombay per esempio uno va e passa dai quartieri dove ci sono i milionari che sembrano Beverly Hills, no? Alla gente sui marciapiedi, no? E così via. Però è molto interessante, il mondo sta cambiando e i cambiamenti devono essere fatti ovviamente a spese nostre, no? Volendo o non volendo. Ti volevo ringraziare, è scaduto il tempo e magari replichiamo. Grazie di cuore. Arrivederci allora a tutti e buone feste.